Un'altra cosa che si parla Porca miseria che si parla Vedi che fai bene a venire giù Due minuti Sì Alla volta che ho il tuo condone qua Andavamo andavamo Io vabbè poi mi divertivo Poi mi chiama mia moglie Mi fa ma devi andare a prendere il medicino Ma che ora è? Penso fosse allora le 6 7.20 eravamo ancora a fanculo la bussana dovete prendermi la pelle ma non ci ho riuscito comunque con la zio di Marco ti diverti sempre sempre e 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